La VL continua nel suo splendido mese di gennaio inaugurando il girone di ritorno così come aveva chiuso l'andata, vincendo. 76-73 il punteggio finale con cui la Carpegna Prosciutto Basket regola una Coriacea Tezenis-Verona, avversario in crescita che costringe i pesaresi ad una partita di fatica e pazienza, ma anche di tenacia e maturità. Quella che viene decisa nei minuti finali dopo che gli scaligeri avevano dato il loro meglio in un terzo quarto chiuso sul 51-59. Nell'ultimo periodo, trascinata da un cita ma referto con 18 punti e dai canesti decisivi di Moretti e Abdurrakam che riemergono dopo una prova opaca, la VL ha ragione di un finale punto a punto che le regala la decima vittoria stagionale. Applausi per la VL, applausi per un tifoso speciale come il campione del mondo di MotoGP, Pecco Bagnaia, omaggiato alla Vitri Frigo Arena con una maglia dal numero 63 Dorato consegnata da Coste Magnifico. Nel calcio invece tra Vispesoro e Pontedera ha vinto la pioggia. Le precipitazioni persistenti hanno reso impraticabile il prato del Benelli che già di suo non ha mai brillato per drenaggio. L'arbitro Ubaldi di Roma ha fatto due sopralluoghi sul terreno con i capitani delle squadre, si è preso mezz'ora per decidere e poi ha ufficializzato il rinvio per una vische tornerà in campo direttamente sabato nel derby di Ancona. Si è giocato invece pochi chilometri più a sud a Fano dove l'Alma ha ottenuto la seconda vittoria consecutiva battendo 2-0 il Tolentino grazie alle reti di Broso e Severini nel secondo tempo. Nel calcio 5 vittoria doveva essere vittoria è stata per l'Ital Service che in Sicilia si è imposta con un rotondo 6-0 in casa del fanalino di Coda Melilli. Per la squadra di Colini una rigenerante boccata ad ossigeno in classifica in un match condotto da autorità. Da un primo tempo chiuso sullo 0-2 grazie ai gol di Dalcine e De Oliveira fino al dilagare di una ripresa arrotandata da Toni Dandel, da De Oliveira che gonfia il suo score personale a tripletta e dalla sesta rete di Chitola. Vittoria fondamentale per l'Ital Service ancor più perché in vista di un doppio appuntamento con la L84 di Torino entrambe le volte al palafiera di Pesero. Mercoledì alle 19 c'è la gara secca degli ottavi di Coppa Italia, domenica 29 alle 17.30 di nuovo sfida ai piemontesi in campionato. Dopo la lunga pausa invernale la Fiorini Pesoregbi è tornata al Toti Patrignani e sotto pioggia e fango dell'impianto di Muraglia ha trovato una vittoria gratificante per 25 a 14 contro il Civitavecchia Centuncelle. A Treviso dura invece un set il sogno della Megabox Vallefoglia nella pallavolo che contro la corazzata Prosecco Doc Conegliano parte fortissimo imponendosi con un 25 a 27 ma poi la forza delle Pantere viene fuori dal secondo al quarto set per il 3 a 1 finale.